Il toro ha il colore della neve che non è mai stata calcata dalla pianta di un duro piede, né sciolta dall'austro piovoso. Europa osa sedergli in groppa e il dio si allontana dal lido. Questa non è solo la storia di un amore mitologico, non è solo la storia di un cratere. È un percorso lungo 2400 anni, che ha coinvolto tanti luoghi, che ha interessato tante persone, che ha intrecciato numerosi destini. Questa è la storia del vaso più bello del mondo.